mi chiamo bianca ciao sono bianca oggi io e la mia famiglia prenderemo un aereo per il mare abbiamo tante cose scatole borse valigie masha porta sempre i miei giocattoli ecco una paperella mio papà me l'ha portata dalla svizzera questa è una lampada da notte il regalo di mio fratello schiacci il bottone parte la musica non dimenticare il mio sonaglio è tutto pronto fuori fa freddo ecco perché la mia mamma mi sta mettendo una tutina da neve e masha sta raccogliendo i miei giucci ne ho uno con un fiocco rosa uno giallo con le stelline uno giallo con una corona come una principessa e uno verde con le farfalle prendiamoli tutti masha viaggerà in una borsa stanno uscendo tutti anche il mio fratello più grande andrò in macchina sul seggiolino mi piace dormire in macchina sto sognando il mare mio fratello gioca tutto il tempo con il suo iphone ora sta aiutando la mamma a portarmi attento a non scuotermi beh c'è qualcosa di divertente in quest'aeroporto mamma mi fai divertire per favore oh giocattoli perline colorate ah ah questo è un cestino con della verdura una carota un cavolo ah 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 ora la mamma sta mostrando i funghi mamma mamma hanno annunciato l'imbarco è ora di andare all'aereo oh che bello ci sono i cuscini qui mi piace adrian è seduto da solo leggi un libro io passerò il volo in braccio alla mamma wow mi chiedo cosa ci sia in questo carrello ci sarà del cibo per mio fratello e la mamma oh dei contenitori che c'è dentro? pollo con il purè perché non ordinano del latte? che strano oh dormirò di nuovo oh applausi è l'atterraggio devo proprio svegliarmi oh sembra che io abbia dormito per tutta la strada dall'aeroporto va bene mi sveglierò nel prossimo video iscriviti al nostro canale se non vuoi perdertelo ciao 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 Grazie.